Sì, è un momento difficile e quindi le cose nuove e belle sono anche un incoraggiamento per un futuro migliore, diverso. Noi inauguriamo due in pochi giorni, una in una grandissima città come Genova, la più grande della nostra regione e una lunedì in un comune piccolo piccolo che si chiama Perinaldo, un paese in cui nacque Cassina, un grande astronomo, 600 abitanti e queste sono un po' le cose che stiamo seguendo nei grandi centri come nei piccoli centri per rinnovare un patrimonio scolastico che ha bisogno spesso di cose nuove. Questa di Piazza d'Erbe è veramente una cosa bellissima, è una ferita bellica che è rimasta tale per tanti anni, troppi anni. D'Altone, come ha detto anche l'architetto che ha progettato, Fridic di Hamburgo, operare qui è difficilissimo, quindi è anche logico che siano tempi molto lunghi, però il risultato alla fine mi pare che sia molto bello e da oggi 418 bambini e ragazzini vengono al cuore del centro storico a imparare cose importanti per la loro vita e animarlo per tutti i giorni in cui vengono qui a studiare e a dare viva città a questa parte della città.